C'è il progetto dell'Ecovillaggio della Casarotta? Dove praticamente Claudio Michela e Arianna avevano deciso di fare un'associazione per promuovere pratiche sostenibili di vario tipo. A un certo punto decidono di acquistare una casa, una cascina, che si trova proprio qua sopra, dietro alle mie spalle, dove pensavano di fare un progetto sociale. Subito dopo, grazie a un'amica in comune, ci conosciamo, io, Ivana e Lia, mio figlio. Era da un po' di tempo che stavamo cercando uno spazio. Era un gruppetto che stavamo cercando, mappando il territorio per trovare uno spazio. E quindi è stato subito un matrimonio immediato, perché ci siamo trovati bene sia da un punto di vista umano e anche da un punto di vista proprio le cose andavano a combaciare su tutti i livelli. E quindi immediatamente abbiamo deciso di unire le forze e partire con questo progetto. Alcuni di noi, nel nostro gruppetto, hanno deciso di stare un po' più di sparte, altri di mettersi diciamo in pieno regime dentro. Io, Ivana e Claudio e Michela, al tempo Cesare anche, decidiamo di partire alla grande, quindi non ci facciamo troppe domande di chi è cosa, cosa, chi ha le cose, di chi saranno, eccetera, decidiamo che vogliamo fare questo e con tanto entusiasmo iniziamo a ristrutturare la prima casa. Quindi iniziamo a ristrutturare e partiamo. Dopodiché io e Ivana avevamo un po' l'idea del progetto agricolo. Allora abbiamo cominciato a coltivare dei piccoli pezzettini di terra che erano intorno alla prima casa, però chiaramente era bello, ma non riuscivamo a sviluppare il progetto. Per cui nel 2015 abbiamo trovato questa seconda casa che, per una serie di conoscenze, con questi terreni, che voleva essere venduta e noi abbiamo pensato che poteva essere quella giusta. Per cui abbiamo provato un anno di affitto per capire se era veramente questa e poi abbiamo deciso di acquistare questo secondo pezzo. Nel 2015 abbiamo pensato di sviluppare meglio il progetto della parte agricola per una serie di motivi. La prima è perché un ecovellaggio, il lavorare sul settore primario, era secondo me e secondo noi, oltre che una passione, era anche un po' una necessità. La base della produzione, cioè nel senso che parti proprio dalla materia prima e generi output. Non c'è il passaggio intermedio. Questa era una cosa. Secondo, era un discorso legato a questo territorio. Questo è un territorio molto rinomato per la sua agricoltura. Quasi tutta l'economia del territorio è basata su un'agricoltura di qualità. Però il concetto di qualità, diciamo, nella nostra infanzia abbiamo visto che ha sempre tralasciato l'aspetto di biodiversità. E allora ci piaceva dare un'impronta di questo genere al nostro progetto. E siamo partiti con l'idea di... abbiamo detto, ok, ragioniamo in questo termine. Qual è la nostra alimentazione? Nel senso, cos'è di cui abbiamo più bisogno? Quindi abbiamo messo subito i cereali e l'orto, praticamente. Poi la frutta e poi abbiamo messo, da due anni abbiamo anche una piccola vigna e gli animali, galline e pecore. Quindi abbiamo incominciato a lavorare in questi termini e cercando di mantenere più o meno queste proporzioni, chiaramente, come se fosse un'autosufficienza, ingrandita in modo che potesse diventare una vendita. Però la cosa di base è stata questa. Questo è stato il principio iniziale. Però la cosa bella è che, lavorando, adesso nel 2015, quindi è cinque anni, praticamente buoni, mi sono reso conto che effettivamente sono tutte piante che da sempre l'uomo ha coltivato sempre insieme. E quindi sono perfette, c'è tutta un'armonia già tra di loro. Avere della frutta, come delle pesche, delle mele, eccetera, o le piante da orto, o avere due galline, o avere un po' di grano, eccetera, sono tutte piante, animali, che da sempre l'uomo ha allevato insieme, in quello che era la fattoria. E quindi ha creato una sinergia, è già tutto fatto in un certo modo, nel senso, c'è talmente tanta esperienza in questo senso, che è pazzesco come effettivamente, se uno incomincia a osservare, vede che le cose vanno a posto da sole. Noi siamo abituati a un'azienda agricola che dice, Io produco cereali e incomincio a elencare tutte le tecniche che usa. E sono tutte monoculture. Invece l'organismo agricolo, come lo chiamiamo noi, o la vecchia fattoria, è un ecosistema perfetto, già di per sé. Vedi proprio che ogni cultura di cui tu hai bisogno entra nel momento giusto, quando l'altra sta uscendo, così come gli animali si inseriscono in modo molto semplice nel sistema. E questo, secondo me, è una cosa bellissima da osservare. Da un punto di vista, quindi cosa succede, per esempio, in pratica? Abbiamo, per esempio, un'area incolta, facciamo pascolare le pecore, che si mangiano le foglie, poi pascolano le galline, tutti i pollai e le stalle sono mobili, le galline tolgono i semi, tolgono i vermetti, gli insetti. Io mi trovo il terreno già praticamente pulito, devo semplicemente ariaggiare un pochettino perché è un terreno molto pesante, e trapianto, per esempio. Quindi questo è il risultato di un lavoro che ha come obiettivo creare un ecosistema, quindi creare continuamente relazioni e continuamente ecosistema. Se io mi preoccupo di questo, il frutto è una conseguenza ovvia, cioè non devo focalizzarmi su di lui. Ed è proprio un, come si dice, invertire totalmente quello che è il pensiero dell'agricoltura classica, dove invece io dico, voglio produrre pomodori. Quanti chili di pomodori tiro fuori da questo pezzo di terreno? E tutto il sistema agricolo si basa per risolvere questa domanda. Invece noi facciamo esattamente l'opposto, cioè come faccio a creare un ecosistema stabile che sia sempre più ricco, sempre più biodiverso, sempre più pieno di relazioni? E poi chiaramente in quello faccio le mie, come si dice, le accortezze, quindi anche da un punto di vista economico, diciamo ok, allora metto un po' più di pomodori, metto un po' più di insalate, eccetera, però senza falsare troppo gli equilibri. Siamo certificati biologici, ma lavoriamo con tecniche di agricoltura naturale. Abbiamo iniziato come purri biodinamici, diciamo. Io ho studiato antropologia, e mi ha sempre molto affascinato anche la parte dell'agricoltura indigena. E quindi abbiamo studiato molto varie tecniche di agricoltura indigena che secondo me sono eccezionali perché hanno un sapere pazzesco, basate su una conoscenza profondissima, molto molto più profonda di quello che ci possiamo immaginare. Più che tutto avevano una relazione sacra con l'ambiente ed era l'ambiente stesso che istruiva loro su cosa fare. Quello che mi hanno insegnato, al di là della ricetta singola, è che veramente ogni cosa ha un valore. E io mi sto rendendo conto che non c'è scarto in realtà qua. Perché quello che non è più cibo per noi è cibo per le galline e per le pecore che diventerà l'etame, che ritorna a terra, e ritorna a terra di alta qualità che mi permetterà di ricoltivare, per esempio. Questo è il ciclo più semplice che vediamo. Oppure le frasche di potatura le facciamo al carbone, col carbone le attiviamo e anche quello diventa di nuovo terreno e diventa, diciamo, concime. Tutto diventa cibo oppure diventa sostanza per produrre nuovo cibo. Anche, non so, per esempio, quando i nostri figli vanno a pesca, pescano del pesce con l'interiora, facciamo dei macerati che poi li usiamo come concimi, per esempio. E questo mi hanno insegnato appunto leggendo, osservando, cercando di capire l'agricoltura indigene in particolare. Poi ci sono alcune tecniche come la permacultura, per esempio, come la biodinamica stessa, che sono di per sé, nel mio modo di pensare, indigene. Cioè, nel senso, partono da un focus molto tradizionale. E poi è giusto implementarle con le nostre tecniche moderne e riuscire a ricavarne dei sistemi, no? Sperimentare, ci piace molto. E quindi dedichiamo sempre delle parti, degli orti, principalmente perché è la parte, diciamo, dove c'è più velocità di coltivazione per cui è più facile sperimentare, a diverse tecniche agricole. Quindi, tecniche con, diciamo, per esempio, l'utilizzo del trattore o solo manuale. Facciamo delle delle parti dove vogliamo provare, per esempio, diversi tipi di compost che stiamo facendo. Attualmente stiamo facendo tre tipi di compost diversi. In altri prepariamo dei formulati più liquidi, quindi dei compost liquidi, dei fermentati. Si va nel bosco a prendere dei campioni di terreno con i quali cerchiamo di coltivare delle micorrize per arricchire i nostri terreni. Nel frattempo il gruppo si è modificato, nel senso alcune persone hanno cambiato strada per cui hanno fatto partire altri progetti che magari erano più affini a loro. Altre sono arrivati e sono nuovi partiti, eccetera. C'è molto, c'è molto, molto movimento intorno a questo progetto. Attualmente cosa è successo? Che qui io, Ivana e Lia abbiamo deciso di vivere di più in questa parte visto che il progetto agricolo richiede molto tempo, soprattutto d'estate e allora per non andare sempre avanti e indietro era più comodo. Attualmente quindi siamo qui con in questo momento ci sono tre ragazzi che fanno volontari. Invece su ci sono Claudio, Michela e Tommy nel frattempo è nata anche Adele e poi ci sono due ragazzi che vivono anche con loro e una ragazza con due figli che sono fissi e poi nel frattempo ci sono altre famiglie che si sono praticamente avvicinate al progetto hanno vissuto un po' con noi e poi hanno iniziato hanno preso delle case intorno qua vicino quindi si sta creando un po' questo gruppetto un po' diffuso infatti ultimamente stiamo ragionando su questo concetto di ecovillaggio diffuso ecco. Allora Casarotta nasce dal come nome vabbè semplicemente perché i i bambini la chiamavano così quando andavamo su diciamo andiamo alla casa rotta eccetera perché la prima casa era veramente molto rotta era disabitata da 30 anni era una casa dove alcune parti erano anche molto vecchie si parla del 1600 1700 mi sembra e quindi c'era veramente tanto tanto lavoro ed è stato tutto praticamente fatto in autocostruzione da noi con materiali di recupero non tutto ma buona parte poi dato che oramai questo nome era entrato diciamo nella nella nostra mente e quindi era diventata così per noi abbiamo deciso di usarlo e abbiamo voluto giocare sulla doppia accezione di rotta come spaccata e rotta come direzione e quindi abbiamo infatti l'azienda agricola abbiamo chiamato nuove rotte all'inizio si diceva casa rotta rompere le forme verso nuove rotte questo era un po' lo slogan che mi ricordo dei primi tempi che è ancora tutt'oggi valido allora vivere con un gruppo di persone così tanto tempo e allora beh sicuramente è una grandissima risorsa una grandissima risorsa perché se uno la vive diciamo non so come dire in modo sincero profondo è veramente una famiglia cioè alla fine è poi quello comunque ti devi confrontare su tantissimi temi devi rivedere un po' tutto quello che è il rapporto dell'uomo con qualunque cosa cioè dal bambini per dire alle cose ideologiche alle cose molto pratiche del tipo ok io gli attrezzi li butto tutti insieme in una cassetta l'altro invece li vuole tutti appesi al muro precisi per dire e quindi la scala delle cose su cui ti confronti è quasi totale e non lo so si crea una specie di amore fraterno diciamo con i pro e i contro di questo cioè nel senso diventi molto il rapporto diventa molto più intimo tra virgolette ti puoi permettere quasi quello che uno fa in famiglia uno lo accoglie con amore non so come dire questo secondo me è la cosa chiave dall'altra parte ti permette di mitigare molto cioè nel senso se magari uno con il proprio fratello la propria sorella la propria moglie marito eccetera magari a volte gli viene proprio da sbottare con con un amico così magari di me viene un po' più mitigato esatto c'è un confine e quindi quello poi ti aiuta anche a rivedere i tuoi rapporti con i tuoi familiari più intimi quindi c'è tutto questo continuo equilibrio che appunto secondo me è una grande risorsa rimani è anche un lavoro proprio un lavoro da mettere in conto come tutti gli altri noi siamo un gruppo che siamo molto incentrati sul fare e questo è una cosa che ci accomuna parecchio finché eravamo solo noi quattro all'inizio tutto era molto più spontaneo quando uno aveva bisogno di un confronto semplicemente lo chiedeva e si faceva poi sono passate persone che invece avevano bisogno di più regolarità a chiedere che ne so tipo fare un metodo di consenso o il metodo del forum e quindi ci chiedevano delle tecniche noi ci siamo sforzati molte volte di farlo e l'abbiamo sempre fatto diciamo che è molto utile secondo me quando ci sono delle persone nuove perché comunque incominciano pian piano a sentire che sei in un posto dove puoi parlare cioè nel senso questo secondo me è importante molto importante che uno possa osare al di là dei preconcetti delle buone maniere tra virgolette di dire non apro la credenza per prendermi un bicchiere perché sono a casa di un altro per dire invece puoi farlo benissimo però chiaro che richiede tempo questa operazione e quindi queste tecniche aiutano molto a essere più se stessi in maniera più vero più rapida una volta che il gruppo è consolidato vengono un pochettino meno noi viaggiamo molto sull'idea del mutuo soccorso quando qualcuno ha bisogno di una cosa di un confronto che può essere di qualunque genere normalmente lo chiede se non ce la fa a chiederlo oramai siamo abbastanza scaltri da chiedere a noi per lui anche perché poi comunque tutto il gruppo ne risente chiaramente quando uno incomincia a essere un po' nervosetto per qualche ragione ogni tanto si fanno quindi dei cerchi facciamo una un giorno una volta a settimana un cerchio tecnico proprio operativo almeno con tutti di tutti gli abitanti poi facciamo una volta quando su richiesta un cerchio diciamo sul come sto cioè diciamo le nostre cose interiori e poi ogni tanto cerchiamo di fare degli accorgimenti sulla visione generale allora i bambini diciamo che fino adesso non li abbiamo praticamente mai coinvolti e dagli ultimi cerchi invece li stiamo coinvolgendo perché soprattutto i più grandi perché pensiamo che che abbia senso che iniziano ad ascoltare a capire a vedere un po' le dinamiche e sono abbastanza liberi di andare e venire chiaramente però gli viene richiesta se sono d'accordo loro la loro la loro presenza soprattutto all'inizio la gente qui viene diciamo in diversi diversi metodi diverse possibilità uno è il woofing o il work away quindi o la rive che è l'associazione delle ecovillaggi e poi in realtà viene richiesta per chi vuole stare di più si fa normalmente una prova di un annetto più o meno quando una persona dice boh vorrei capire un po' come funziona capire se posso investirmi in questo progetto allora si fa questa questo tentativo e la presenza di un anno normalmente viene richiesto un piccolo contributo pensiamo che sia giusto fare un un piccolo sforzo cioè un piccolo sforzo da parte di tutti di di volontà anche di entrare in un progetto perché questi progetti sono tutti basati sulla sull'autocoscienza praticamente e sulla presa di responsabilità responsabilità in senso di diciamo ho una una capacità la metto a disposizione quindi me ne occupo me ne prendo cura e quindi quello mi genera responsabile nel senso che sono il referente di questo passaggio di questo punto e questo mi da per assurdo per potrebbe sembrare un paradosso ma non è vero un sacco di libertà cioè libertà di di poter esprimermi di poter essere me stesso che è la cosa più importante diciamo ora noi non abbiamo diciamo una rispetto all'inserimento effettivo non abbiamo un un sistema predefinito ogni situazione viene fatta un po' ad hoc perché comunque c'è la persona che ha la possibilità economica di comprare un pezzo di casa c'è la persona che invece no però magari ha tanto tempo e quindi noi diciamo si cerca un po' di parlare insieme capire un po' come si può fare stiamo cercando di mappare diciamo le case luote disponibili terreni qua intorno esatto per avere tutte le possibilità se ci sono dei posti liberi nelle varie case ci si può offrire si può offrire questo posto qua per adesso però diciamo per adesso c'è una persona che è in trattativa su una casa che dovrebbe essere andare a posto praticamente e gli altri invece sono tutti in affitto su case che hanno trovato su altre case dal punto di vista dell'autosufficienza diciamo che volendo uno potremmo anche esserlo nel senso che comunque producendo cereali producendo orto frutta e con un po' di conservazione di cibo ne abbiamo diventa difficile anche perché per esempio facciamo della pasta con le nostre farine però chiaramente facciamo due formati tre formati di pasta quindi uno dovrebbe invece di solito siamo abituati a cambiare ecco però è una questione di abitudine per esempio facciamo anche un po' di birra con i nostri cereali anche qui abbiamo una tipologia ora no per quanto riguarda la vendita abbiamo esportiamo un po' questo modello di vendita cioè vendiamo il paniere praticamente poi come logica poi facciamo un po' di tutto però sì lavoriamo con dei privati principalmente e con dei ristoranti l'azienda agricola sta iniziando a generare reddito però è tutto investito per finire di ristrutturare i locali eccetera sia sull'autocostruzione che in agricoltura ci siamo abbastanza formati facendo per la parte agricola vabbè io avevo siamo tutti nipoti di contadini chiaramente quindi avevamo tutti ricordi d'infanzia di fare quando c'erano l'orto col nonno poi quando ho capito che era una cosa che mi sarebbe interessata molto ho cominciato a fare corsi chiaramente e poi sono andato a lavorare in due o tre aziende agricole dunque io ho lavorato dieci anni in ufficio facevo prototipi per le ABS delle macchine nel frattempo mi sono lavorato in antropologia e poi ho cambiato tutto la vita d'agricoltore in agricoltura per il mio carattere è la più bella che ci possa essere perché mi permette di poter apprendere tantissimo perché vivo in mezzo a piante animali e persone che sono che continuamente mi insegnano ed è la cosa più importante per me e allo stesso tempo mi permette di interagire col paesaggio in modo creativo situazione in cui la natura ti dà tantissimo e l'uomo può mettersi in un punto preciso e secondo me questo è un continuo ricamare la posizione dell'uomo nella natura come dire non sei in una situazione di dominio e neanche sei dominato ti trovi proprio una situazione armoniosa molto bella che va continuamente coltivata nel vero senso della parola è ricamata dall'altra parte mi rendo conto che chi non ha una forte passione per la natura per l'agricoltura è un lavoro difficilissimo perché ti richiede una devozione totale soprattutto come lo facciamo noi l'organismo agricolo l'ecosistema come dicevo prima è bellissimo allo stesso tempo ti tiene impegnato sempre costantemente tu hai hai sempre una pianta che entra in produzione quindi hai sempre una pianta che ha bisogno di essere curata hai sempre un animale che ha qualcun'esigenza o perché fa troppo caldo o che fa troppo freddo o che hai piccolini o che sta diventando vecchio e quindi il ciclo della natura ti richiede di essere sempre presente perché la vita non è che può andare in ferie una settimana o roba del genere con gli animali così come con le piante abbiamo un rapporto che è in continua crescita e in evoluzione quindi tanti di noi io per esempio ero sottovegetariano dieci anni e e poi pian piano continuando iniziando ad allevare gli animali mi è venuto di mangiarli per assurdo anche se non li ho mai ammazzati e prendiamo le uova sì il latte ogni tanto però magari per esempio se c'è una gallina morta perché che so che è morta di cause naturali per esempio è passato il cane e l'ha spaventata e magari è morta e per esempio ce la siamo mangiata è interessante come il rapporto con l'animale si è cambiato in me e anche negli altri ragazzi man mano che ci sta insieme quando parlavo con mio nonno per esempio e mi diceva come è possibile che non ammazzi una gallina e io avevo tutte le mie ragioni per dirgli che non devo ammazzarla per lui era una cosa senza senso non ammazzare una gallina e io mi rendo conto che invece adesso non lo faccio perché non ho coraggio di farlo ma sarebbe una cosa che in questo sistema sarebbe potrebbe starci farebbe parte del ciclo e non e secondo me non ci sarebbe niente di che va fuori norma non so come dire mi sono reso conto per esempio tante volte nel pollaio che la la volpe quando viene o la faina o il falco che sia non lo so mi sembra che vada sempre a colpire a prendere l'animale che già il pollaio stesso aveva messo da parte in un qualche modo quindi penso che in quest'ottica anche l'uomo potrebbe cibarsi dell'animale ecco poi noi comunque non produciamo per l'allevamento per questo genere di cose da due anni a questa parte abbiamo iniziato questo progetto della scuola di agricoltura indigene appunto dove presentiamo su una serie di lezioni diciamo un po' i risultati dell'esperienza e quindi prepariamo tutta una serie di preparati a base di piante a base di letame a base di minerali eccetera che un po' arrivano dall'agricoltura biodinamica altre invece da altre tecniche e poi si lavora diciamo si presentano le varie tecniche agricole la raccolta dei semi perché qua recuperiamo tanti semi antichi quindi si presentano un po' questo genere di cose normalmente facciamo un corso base di 5 lezioni al sabato o la domenica e poi facciamo degli approfondimenti tematici sugli argomenti specifici tra questo praticamente come Casarotta facciamo parecchi eventi formativi dove si va a lavorare un po' su tutto l'aspetto sociale e sostenibile quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi